E allora siamo con i team post Claudia Trombino, Michelangelo Ferrara, Danilo Gambino e il presidente Di Maggio perché... Io sono il presidente del Capace Sì, sei dissociato Già sei dissociato Abbiamo trovato un presidente che già sei dissociato E ho diciamo ceduto momentaneamente la trueta trombina a questa squadra Speranzoso che si mette l'evidenza così me la vede E invece la prestazione di oggi è stata abbastanza pacca Mi chiedono soldi per vento Quindi, scusi presidente Di Maggio Quindi il tuo chi vuole è anche una vetrina per fare mercato? È una vergine di raccoglie, ha levato il vetro stasera Danilo invece che ci dice la tua prestazione? Non ci manda Danilo, scusa Comunque, il migliore in campo è stato sicuramente Michelangelo Sì, ha già fatto a rompere Non ha fatto neanche un errore Però io lo sono andato a punzecchiare poco fa E io ho detto ma tu non giochi E lui mi ha risposto Vedrai nel Vletti Adesso che ha perduto il vetro stasera Voglio dire una cosa l'edito Danilo ha aggiornato prima Il problema è che nella squadra prestazione c'era un libro troppo forte Che prendeva tutto Il vetro è uno No, fratello, no Va bene Noi vi ringraziamo Vi ringraziamo pur dentro alla prossima Ciao ragazzi Ciao